Consueta operazione natalizia per gli uomini della Capitaneria di Porto che unitamente al Corpo Forestale dello Stato hanno effettuato sequestri di oltre 230 tonnellate di prodotti ittici e alimentari privi di qualsiasi forma di tracciabilità, nonché al sequestro di aziende e depositi illegali sprovvisti di qualsiasi forma di autorizzazione. A seguito delle operazioni a prevenzione della salute pubblica, la Capitaneria di Porto, Partenopea e la Forestale hanno indetto una conferenza stampa nell'ambito della quale sono stati spiegati i parametri delle varie operazioni di polizia giudiziaria. Abbiamo ben 230 tonnellate di prodotti ittici che sono stati sequestrati a vario titolo. L'azione ha interessato varie zone di Napoli e anche di Caserta, quindi è stata un'azione all'ampio raggio e in particolare anche al Vomeo, al centro storico di Napoli. Ed è interessante che quando si sviluppano queste azioni in sinergia appunto, succede sempre che si unisce a un controllo, che è il primo obiettivo principale di azione, un'altra serie di controlli che possono portare poi a dei risultati, diciamo, differenti. Si rinnova anche quest'anno questa grossa attività di cooperazione sul territorio con il Corpo Forestale dello Stato a fine della tutela della sicurezza agroalimentare dei cittadini e della tutela della salute umana. Un'attività complessa strutturata in due giorni sulle province di Napoli e Caserta, che ha portato al monitoraggio sia della distribuzione al dettaglio che della grossa distribuzione dei prodotti ittici e alimentari delle due province. Nelle varie operazioni quante le aziende poste sotto sequestro? Le aziende poste sotto sequestro sono due, due aziende sotto sequestro, in particolar modo la serie principale di un'azienda che si sta nel comune di Cricignano d'Aversa e che aveva anche sede operative all'interno poi di una piattaforma logistica di distribuzione. Sono stati, per quanto riguarda il dettaglio, 30 gli esercizi commerciali sottoposti al controllo, al monitoraggio, 9 in tutte le aziende poi monitorate per la grossa distribuzione, insieme ai colleghi della Guardia Forestale.